Se venite in vacanza a Sorrento, che è un posto meraviglioso, in Corso Italia al 239 troverete questo Urban Jungle, un negozio che è un franchising, però è tenuto da una persona simpaticissima che adesso ci racconterà la storia delle converse, eccola qui, si chiama Anna, è molto simpatica amica sua e ci racconterà, vediamo la converse innanzitutto, che io è la prima volta che vedo una converse dov'è? Dov'è la converse? No, questa è un'altra marca, no, no, noi siamo sulle converse che sono queste, la scarpa di Pippo sembra, però insomma c'è una storia e adesso ce la fa, è un po' filo americana, un po' filo inglese, filo americana, però, allora, siamo qua, com'è la storia di queste converse, come mai sono tanto famose, come mai tutti i ragazzi vogliono le converse? Allora, innanzitutto la converse è una scarpetta adesso richiesta perché è un remake degli anni 70, ma è diventata ordinaria negli anni 70 perché un pochino prima alcuni giocatori di basket l'hanno adoperata per giocarci a basket, quindi è nata come scarpetta da basket una delle prime perché aveva il collo alto, un pochino a stivaletto e quindi tutte le scarpe che nascono dagli sportivi poi ovviamente vengono prese dai fan, dai giomani e quindi hanno fatto una, come dire, una bandiera portante e adesso siccome il momento richiama il periodo di moda degli anni 70 è sempre molto richiesta. E le portava Mick Jagger? Le portavano Mick Jagger, le portavano tutti i riferimenti musicali e sportivi di riferimento. Anche Janice Jobim? Poi più è invecchiata, più è sciupata, più è mortificata, è mattoriata e più è pregiata la scarsa. E' per questo i giovani. I giovani la preferiscono. Adesso se non te ne vai ti do un morso sul naso. E allora, se capitate a Sorrento, venite qua a Corsetale 239 Urban Jungle e vi fate un bel paio di converse. Grazie. Grazie. Grazie a te.